alle mie spalle qui dentro questa porta c'è grandate con la stazione dei treni che è qui a 50 metri a pochissimi chilometri dal centro di como facilmente raggiungibile dall'autostrada e quel signor lì quel bel ragazzo lì è davide siamo da bike house como ciao davide ciao ragazzi amici paddock tv bello venerti a trovare perché ci sono sempre una marea di belle cose di belle di belle opportunità con oggi il marchio bmw sugli scudine se no anzi sotto i riflettori diciamo così perché parliamo di promo promo bellissime promo in corso sul mese di marzo quindi da dove cominciamo partiamo qua dal f 900 r vai f 900 r bella allestita con pacchetto active sospensione elettronica e un po di accessori interessanti la propongo a la proponiamo noi dai chaos como a 11.875 solamente che vengo incontro col pacchetto active quindi gli omaggio di 700 euro di pacchetto active che cosa comprende quel pacchetto lento active va a comprendere cambio elettro assistito freno motore adattativo contro le trazione dinamico e la bs con la piattaforma inerziale e modalità di guida effettabili quindi si prende già una moto bella ricca per divertirsi quello che cerca un giovane una moto semplice ma con quello che serve per divertirsi colorazione bellissima che è un figlio fantastico potete vederla video di tenere a vederla che questa è in pronta consegna sul mese di marzo vi faccio questa super promo bello proseguiamo proseguendo andiamo a proporvi una f 900 xr full white prezzo di 14.085 euro chiave in mano al pacchetto active quindi tutto quello che ho vincato precedentemente il cambio elettro assistito il sistema di chiamata ss novità sul mercato quindi in caso di incidente la moto riconosce l'impatto e chiami soccorsi manualmente in automatico oppure manualmente possiamo andare a chiamarli noi semplicemente vi faccio vedere alzando il tasto e schiacciando il tasto al saldo la rivetta e schiacciando il tasto anche l'avvento senza chiavi tra il letto centrale i paramani qui omaggio io 800 euro di accessori se foste interessati quindi volendo siccome ha già predisposizione per le borse perché no ci facciamo un paio di borse per viaggiare altrimenti perché dobbiamo prendere una moto così molto interessante bella linea interessante vieni seguimi pure seguimi pure vi porto qua dalle grandi dalle nostre grandi moto da 30 e passa al litri di serbatoio gestadventure 1250 tutte e tre le colazioni disponibili in pronta consegna le vado a proporre vanno a differenziarsi i prezzi a seconda degli accessori che hanno montati e gli option però posso omaggiarvi io il pacchetto di amic che comprende le modalità di guida il cambiamento assistito e la sospensione elettronica davvero poi di molto interessante sul mese in corso abbiamo anche dei tassi super agevolati per la finanziaria quindi se volete venite che fino al 30 marzo possa farvi delle offerte interessanti davvero e ci si porta a casa un adventure in perfetto stato e nuovo di quel pacchetto li stiamo parlando di una cifra e siamo 3 migliaio d'euro ti faccio vedere tranquillamente siamo esattamente a mille cinquecentocinquanta euro quindi molto interessante un bel vantaggio vantaggio assoluto benissimo vi aspetto allora quando potete volete siamo aperti anche sabato alle 9 alle 18 quindi caffè incluso chiaramente ragazzi è incluso per forza per noi ci rendiamo meglio assieme grande ciao davide alla prossima ciao da my house como ciao 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 ciao